Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, in un negozio gestito da soggetti di origine cinese del quartiere Gianturco del Capoluogo, 69.000 articoli con analoghi contraffatti e non sicuri tra pseudomascherine FFP2 e accessori di Halloween, messi in vendita Le fiamme gialle, ha seguito di pedinamenti e appostamenti, hanno verificato che la merce, regolarmente consegnata da uno spedizioniere al citato esercizio commerciale, è stata successivamente occultata dai dipendenti in un locale all'interno del negozio. Una volta intervenuti, i finanzieri hanno aperto i colli e all'interno hanno scoperto 28.000 mascherine facciali prive delle certificate pubblicazioni di conformità e della relativa autorizzazione per l'importazione, e l'immissione in commercio. Per approfondire questa notizia leggi l'articolo su ViviCentro.